La pagina della liturgia di oggi, la ventesima domenica del tempo ordinario, è una pagina non facile perché porta con sé il concetto di divisione, là dove inrompe la verità divide, spacca perché bisogna prendere coscienza e contatto con la verità e quindi porta una diversità alla verità, cioè un altro modo di concepire la vita. Il cristiano è sempre un po' nostro slogato nella società, è un po' sempre un diverso che gli altri non capiscono e i grandi profeti sono andati sempre controcorrente alle modi di pensare del loro tempo, anche in politica. E' quello che capitò al profeta Geremia, il quale di animo fine, gentile, eppure è chiamato un compito che contrasta. Naturalmente passò da traditore, fu gettato in prigione, fu allontanato, malvisto da chi pensava che il popolo poteva salvarsi da sé con le proprie mani, con le proprie astuzie politiche, alleandosi con i potenti di torno. Sembra un ammonimento per i giorni nostri, per quello che ci sta capitando, per quello che vediamo nella televisione, per questa guerra insensata che tutti noi portiamo come fatica e dolore nel cuore. Chi pensa che quello che sta accadendo ha in sé un ammonimento, la conversione della vita, chi lo pensa? Io credo che nessuno l'avverta con questa decisione, è però un ritorno a Dio, per una conversione a Lui. Ma la verità che si comprende è sempre troppo tardi, e quindi è come se mancasse la fede per vedere questa verità. Per questo occorre, come si diceva domenica scorsa, una vigilanza continua, come ci raccomanda il Vangelo, una intelligenza vigile e un cuore attento, è quello che occorre. Infatti Gesù dice ai suoi, siate apronti con le lampade accese, siate simili a quei servi che aspettano il padrone quando ritornerà. In fondo noi siamo molto distratti, siamo dei cristiani distratti, con la testa impegnata in cose ultimamente non determinanti per la nostra vita. Così viviamo il matrimonio lontano da un vero scopo, educhiamo i figli, ma per cose che non contano, per la loro vera crescita. Insomma, siamo dei distratti. Sì, lavoriamo e facciamo politica, ma con la testa lontano dal vero scopo che è il bene. È come uno che guida una macchina ad alta velocità, continua a guardare dal finestrino il bel paesaggio e non si accorge che va incontro a un incidente, perché è distratto. Ecco, noi siamo esattamente questo. Dobbiamo chiedere al Signore di avere il cuore vigilante per poter camminare sulla retta via. Grazie a tutti.